buongiorno caro francesco buona giornata buongiorno a tutti buongiorno direttore buongiorno redazione buongiorno a tutti gli amici che ci seguono da casa e abbiamo finito non possiamo farlo in ordine alfabetico francesco così passiamo il tempo e se ne va l'oretta per tutti i luci e dobbiamo avere l'elenco dobbiamo avere l'elenco degli amici che ci seguono e che invitiamo a chiamare intervenire a mandare messaggi e a scriverci anche sui social nei commenti sotto sotto il video e si a breve riprenderemo anche le trasmissioni ss kodakons e ci fa piacere che continuate a seguire la rassegna stampa che vi stiamo proponendo le nostre edizioni del tg e in particolare riferendoci a questa trasmissione liberamente parliamone 351 931 9265 anche numero telefonico riservato a whatsapp quindi immagini video oltre sms e telefonate naturalmente oppure attraverso telemiche chiocciolibro.it che cosa succede l'undici aprile ci ricorda la regia con questo scorrimento di titoli che dall'undici aprile telemiche sarà visibile sul programma 79 del digitale terrestre perché in questi giorni a partire da oggi la puglia è interessata allo switch off quindi si spengono i vecchi impianti e si accendono i nuovi cambiano gli operatori di rete cioè colori quali proprietari degli impianti della diffusione di queste onde che poi arrivano e attraverso le antenne vengono ricevute e rendono visibili i nostri programmi attraverso gli apparecchi riceventi i televisori e quindi c'è chi trasmetterà in hd per cui ce ne siamo già accorti nei grossi network francesco in particolare le signore erano un po imbarazzate devo dire la verità le signore colleghe perché o erano troppo truccate o poche a chi si vedeva la ruga a chi si vedeva la smagliatura insomma c'era qualcosa che non andava ci sono volute almeno tre quattro giorni prima che anche loro imparassero a truccarsi rispetto alla nuova tecnologia l'hd dove c'è una maggiore definizione però francesco resta sempre un fatto che la vecchietta che sta aspettando un anno la prenotazione per la cataratta vede sfocato comunque e dice ma a me che non interessa l'hd a me interessa che il servizio sanitario in questo caso la regione puglia abbatta le liste d'attesa quindi meno non so soldi in altri settori e più per abbattere gli stati sperché francesco i nostri operatori sanitari sono efficienti e ci sono ma è naturale che laddove c'è una maggiore richiesta è un aumento di patologie per cui è necessario rivolgersi a un ospedale o medico e ebbene che si aumenta questa necessità il legislatore il politico che deve fare o deve avere il coraggio di dire ai cittadini non abbiamo sufficienti risorse economiche per rispondere alle vostre esigenze oppure deve aumentare i fondi per la sanità e allo stesso tempo migliorare coordinare meglio le attività insomma il servizio del 118 tutti quei servizi che sono utili ai cittadini assolutamente sì non abbiamo altro altre soluzioni i fatti recenti la pandemia in primis ha scoperchiato il vaso di pandora sul tema della della sanità e sui malfunzionamenti sulle lentezze della sanità perché perché è evidente che se noi siamo rimasti chiusi in casa privati delle nostre libertà ci è stato detto era per far sì che il sistema sanitario non andasse al collasso non giungesse al collasso e quindi che significa significa che evidentemente chi noi paghiamo perché amministri per nostro conto un servizio qual è quello della appunto della sanità non lo ha fatto in maniera tale da renderlo efficiente e pronto anche in caso di pandemia e quindi che cosa è successo che ci hanno chiusi in casa perché non riuscivano a gestire il servizio quindi è evidente che probabilmente quando sono arrivati dei fondi che sono stati stanziati con delle finalità ricordiamo tutti penso i diagrammi a torte con le varie fette diciamo di distribuzione di queste risorse provenienti dall'unione europea quindi in buona sostanza sempre dalle nostre tasche sia chiaro la sanità aveva un triangolino molto molto sottile che significa significa che una minima parte di quei fondi verranno investiti per la sanità e per la sanità significa sicuramente un adeguamento delle retribuzioni agli operatori che tanti sacrifici fanno e hanno fatto a maggior ragione in questo periodo di pandemia ma anche strutture efficientamento maggiori risorse per implementare il servizio di cui i cittadini hanno bisogno perché non è concepibile che nel 2022 ci siano liste d'attesa così lunghe, così dannose anche per la salute dei cittadini Francesco ti dispiace collegarti con Claudio? Con Claudio è sempre un piacere collegarmi Prego Claudio ci sei? Ben ritrovati Eccoci Che ci proponi Claudio? Niente di nuovo Per fortuna non ci sono notizie di cronaca rilevanti Dovremmo essere contenti Come? 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 Attenzione sull'acqua viva Gioia del Colle Un attimo Claudio ti giro Questo amico che cosa mi ha inviato Questo è la possibilità di approfondire Oggi c'è stato Su, 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 no, però non so se all'ingresso di Gioia comunque Forse sarà su Sola Santeramo No, dove? No, non lo so dov'è comunque Claudio Te lo giro e veditela tu insomma Tu sei, tu ti dedichi alla Alla, alla cronaca E me l'hanno mandata proprio mentre stavamo Ci stavamo collegando Ecco Così Contatta Nicola e vedi un po' cosa ti dice nel frattempo I giornali che dicono I giornali che tu hai letto Che ci dicono A parte il fatto Vedi io mi sono già attrezzato Giacca pesante Spegniamo tutti i riscaldamenti Che dobbiamo risparmiare E in estate tutti nudi negli studi Noi usciremo nelle vostre smissioni Tutti nudi Cioè il risotto non si vedrà Ci mancherebbe coperto Ma come i muratori Come i muratori Come i muratori Come se fossimo al mare Perché siccome potremmo accendere Mi dispiace per te Francesco Vare condizionati In estate dobbiamo risparmiare Per cui Sì qualcuno ha detto Scegliete o la pace o l'aria condizionata Noi che siamo per la pace Quindi ci togliamo la camicia Ci togliamo le giacche Le maglie, la cannottiera E quindi a petto nudo Saremo costretti a proporvi A proporvi il nuovo liberamente Parliamo E quindi io che sono un amante Dell'aria condizionata Sono un belligerante Guerrafondaio Ecco scusami Mi era venuto già il fatto Mentre parlavi Immaginavo il tram Il tram? Sì Che tram? Sai da queste parti Si dice Ti attacchi al tram Allora avevo pensato Avevo pensato che il riferimento fosse quello Ma non volevo Mi è venuto in mente il tram Tu non mi fai venire in mente questi mezzi antichi Meglio che sia il tram Che non Qualche altro mezzo Qualche altro mezzo Insomma Certamente Certamente Mezzo pubblico Claudio cosa dicono le nostre pagine di giornale? Uno dei quesiti è quello che ha posto adesso il nostro collega su se scegliamo l'aria condizionata oppure la pace Cioè proprio non capisco il senso di una frase del genere Questo probabilmente per dire agli italiani Preparatevi che se vi mettiamo qualche tassa in più Vuol dire che lo facciamo per la pace E quindi dovete essere pronti e favorevoli a quello che stiamo per fare Può essere Diciamo che a noi non piace fare questi confronti Noi siamo per la pace e certo ci sforzeremo di fare in modo di non sprecare risorse Ma è nella nostra indole Tutti quanti noi Da chi ha più soldini a chi ne ha meno Ecco se siamo brave persone E anche e soprattutto intelligenti Sappiamo che non si spreca nulla E così dovrebbe essere Noi che siccome uno ha i soldi E butta non so il mangiare nella pattumiera E c'è poi chi non ha il denaro per poter acquistare Non ha un posto di lavoro per poter acquistare quel prodotto che si ritrova poi nella pattumiera Noi è così Noi dobbiamo essere attenti al risparmio E soprattutto al rispetto della natura Di tutto il nostro habitat Il nostro contesto e di noi stessi Buttare e sprecare i prodotti È veramente una cosa che non fa bene al nostro essere umani Ma a parte questo Claudio? Sì? Dicevo a parte questo A parte le 10-15 pagine riservate alla guerra Come se non ci fosse più nulla da dire E quindi opprimere quotidianamente con queste immagini Con queste notizie Dovremmo invece rilassarci un po' di più Ecco Comunque ognuno è libero Possiamo approfondire qualcosa sullo sport Oggi ci sono le ultime due squadre italiane rimaste in Europa Cioè? Atalanta e Roma In due competizioni diverse Conference per la Roma Che è tra le favorite E l'Atalanta invece nell'Europa League E vediamo che cosa succede La Roma affronta una squadra che tempo fa Gli ha dato una bella batosta E quindi c'è una sorta di speranza di vendetta Da parte della squadra di Murigno Vedremo come andrà a finire Mentre ieri si sono giocate Le ultime due partite della Champions League Di questo primo turno Dei quarti di finale Che ha visto a sorpresa il Villareal Che ha eliminato la Juventus Sbattere la corazzata Bayern Quindi almeno viene rivalutata un po' la sconfitta Della squadra italiana Mentre il Real Madrid È andata a vincere Fuori casa In un campo difficile Ovvero quello del Chelsea Che diciamo adesso Ha problemi ben più importanti Legati a quello che sarà il futuro Della proprietà Visto che l'attuale numero uno della società È uno degli uomini più vicini a Putin E quindi è stato La società ha questo problema Il proprietario la vuole vendere Gli viene anche impedito Per le varie restrizioni Per il discorso guerra Vedremo come andrà a finire Quindi si trovano in una situazione molto particolare Però ciò non toglie Che il Real Madrid Ha fatto una grande partita Vincendo 3 a 1 E confermando di essere Una delle pretendenti Alla coppa delle grandi orecchie Un nostro telespettatore Claudio Francesco Ci ricorda Giacomo Che Don Peppino Cicarone Tutti noi lo ricordiamo Don Peppino Cicarone Ci ha lasciato Il 7 aprile 2009 Questo sacerdote esemplare Così come scritto nella frase Che stiamo leggendo insieme Con sentimenti umili e generosi Ora insieme a quanti ti hanno amato Ti chiediamo il dono più caro Una preghiera Il titolo di Don Peppino Io sono sempre abituato a chiamarlo così Era di Monsignore Nato il 13 luglio del 1927 Deceduto Il 7 aprile 2009 Quindi a breve Avrebbe compiuto Se non sbaglio I calcoli I conti Come sul dito 82 anni Ha dato tanto Per la città di Acquiglia delle Fonti Ci fa piacere Che ogni anno Ci sono degli amici Che ce lo ricordano Assolutamente Quando si lascia il segno E' così E' così Perché tanti La comunità di Santa Maria Maggiore Eh sì La comunità di Santa Maria Maggiore E' un parroco Un sacerdote Che ha dato tanto Alla città di Acquiglia delle Fonti Non solo Perché anche all'esterno Della nostra città Ha portato il suo Contributo Importante Molte cose Di cui oggi Noi usufruiamo Eh Dobbiamo ringraziare A questi uomini Del passato Che hanno speso La loro vita Non solo nel Sacerdozio Ma in tante altre attività Per Eh Regalarci Eh Quegli frutti Quelle opportunità Di cui tanti Hanno potuto Usufruire E forse Eh Per noi Che siamo Nostalgici Abbiamo qualche anno in più È proprio questo Il Il Cruccio Non vedere Oggigiorno Nel Stesso Diciamo Diciamo Persone Che possano Avere La stessa Levatura Nel senso che Ieri forse erano Più Nel numero Maggiore Oggi E sempre più L'era del consumismo Ci ha portato A mettere al primo posto Altri Fattori In tutti i settori Il Tra virgolette Dio Denaro È vero che senza I soldini Non si può far nulla Ma Ecco Il covid E la guerra Ci dimostrano Che Si può costruire Tanto Si possono spendere soldi Investire soldi In tante Strutture Ma poi Basta Un missile Per far saltare Tutto Basta Un virus Per Per fare Avere effetti gravi E Portare la morte La morte Agli esseri umani Per cui Forse dovremmo investire Più nei rapporti umani In quelle Attività Che gratificano Noi stessi E tutti Gli altri E quindi La pace È la cosa migliore Se noi Litighiamo È naturale Che stiamo investendo Del tempo Per litigare Ecco È naturale Che Non me ne vorranno Gli avvocati Sintonizzati Se si litiga Ci si rivolge All'avvocato Però Ecco Io Poserei dire Meno litigi Ecco Poserei dire Non me ne vorranno Gli avvocati Ecco Non posso dire Meno giornalisti Se no mi cacciano Mi tolgono la tessera Ma meno avvocati Meno avvocati Non posso nemmeno dire Insomma Meno litigi Il problema è quale Francesco e Claudio Che io ho parcheggiato L'auto stamattina Alle nove e mezza E l'ho parcheggiata In maniera Io ritengo Giusta Quindi avendo Spazio dietro E spazio avanti Adesso Se volessi uscire L'auto Non so Quante manovre Dovrei fare Se hanno stretto Perché Hanno parcheggiato A 5 centimetri davanti E a 10 centimetri dietro Allora io dico Ritorno sempre Al fatto Che Dove le istituzioni Sono deboli Aumentano i conflitti Perché io adesso Dovrei uscire E che dovrei fare Ribaltare Essendo Hulk L'auto Che mi sta davanti Prendere il cric E sfondare i vetri All'auto Che mi sta di dietro Non si può fare E' un atto Che non si può fare Giusto Assolutamente Non si può fare Ma Se le istituzioni Non intervengono Il povero cittadino Per uscire Da quella trappola Cosa deve fare Oltre a dire le preghiere Ma lì Sai Non è una questione Di istituzioni Cosa può fare L'istituzione Tecnicamente La persona Ha parcheggiato Una contravenzione Se c'è il coso Ma c'è la strada Una contravenzione Ma se l'altra auto Gli stalli Gli stalli Perché Gli automobilisti Siccome ci sono quel deficiente E cecati Forci con lo stallo Scusate per i cecati E per i deficienti Oppure Oppure Basterebbe un minimo Di buonsenso Di rispetto Di rispetto reciproco Che non guasta mai Io nel frattempo Si è perso Io nel frattempo Che ti ha scritto A proposito del birichino Noi abbiamo fatto La nostra indagine E caro frangeli E' venuto che cambierà Eh no però Un attimo Finisco Lancio 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 Perché io non voglio Tornare su questo argomento Abbiamo fatto Allora Io ho lanciato Un sondaggio Sui social Chiedendo se Visto che ne parlavamo In apertura Se i nostri telespettatori Preferiscono La pace O l'aria condizionata La pace Vediamo Vediamo Sarà la pace A fine trasmissione Diamo Diamo l'esito parziale Di questo sondaggio L'importante Che tu non Non scriva Non faccia partire Il sondaggio Che ne pensi Di noi tre Perché se poco poco Dicono Ci avete stufato Poi Come facciamo Francesco Non facciamo domande Impertinenti E facciamo come i sondaggi Che vengono commissionati Da alcuni partiti Che vedono sempre Il partito che commissiona Come primo partito Esatto Esatto Quindi io trovo Se lo commissioniamo Noi il sondaggio Vedremo sempre Che saremo I migliori I migliori E che dicono i sondaggi Dalle parti Dalle tue parti Claudio I sondaggi Allora in questo momento Stavo Ho appena ricevuto Le foto Dell'incidente Va bene Allora ti lasciamo Un po' di tempo Per Tra un po' Vi do maggiori informazioni Sì Perfetto Allora Anzi male Perché dove c'è un incidente Qualcuno si fa male E non va bene Attacco all'Europa Scrive il giornale Relativamente a cosa? Il governo Il governo Vara Il DEF Di guerra Documento di economia E finanza La crescita Si restringe Al 3,1% Contro il caro energia 9,5 miliardi Senza extra deficit Taglio Delle accise Sui carburanti Esteso al 2 maggio Non potevamo farlo Al 31 No Al 30 Di solito Perché provo al 2 maggio? Cioè facciamo il ponte Perché poi arriva l'estate La gente ha voglia di viaggiare Probabilmente E quindi Piace o non piaccia Deve Deve Consumare Il 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 carburante Ma sai Si vanno a mortificare Un po' le persone così Perché Prima le tieni chiuse in casa Poi fai passare il concetto Del Dell'attività strettamente necessaria Chi dice cosa è strettamente necessaria E cosa non lo è Speranza Lo dice il comitato tecnico scientifico Chi lo stabilisce Cosa è necessaria E cosa non lo è E adesso La stangata sui carburanti Quindi quando la persona Magari dopo un anno di lavoro Vuole godere del sacrosanto diritto A Farsi un viaggio Una gita fuori porta Eccetera Arriva la stangata Dei carburanti Che rimane Diciamo I prezzi rimangono contenuti Da un punto di vista di tassazione Perché torniamo sulle tasse Diranno lo puzzo ha rotto le scatole A parlare sempre di tasse Eh ma è così Qui ogni cosa che si fa sono tasse Francesco non è così Non è così Mi dispiace Mi dispiace Non è così Invece tu devi immaginare il puledrino Lo immagino il puledrino Mai si è andato allo zoo safari Che si fa? Io come animale Più che il puledrino in questo momento Immagino la mucca da mungere No no la mucca no 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 Qua non stiamo a mungere No 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 è diverso il concetto Tu immagini di andare allo zoo Che alla giraffa Che cosa gli dai? Le chiacchiere I panzerotti Gli dai un qualche cosa da gustare E la giraffa Esce la linguetta Un metro e mezzo E prende La scimmietta pure Il cavalluccio Il puledrino Che fai? Io vedo Quando vedo i film O anche le gare Vedo che subito Si dà lo zuccherino Cosa gli danno? Non lo so Ma gli danno E così siamo noi Ci stanno dando Fino al 2 maggio Lo zuccherino Il condentino Stati buoni Io lo vedo in questa maniera Si State buoni Non vi preoccupate Per calmare le acque Per calmare le acque Poi magari Quando arriva E' stata riaperta L'acqua è tutto ok Si Oggi Dalle sede al mattino Ritornata Che sia stata riaperta Si Che sia stata riaperta Si Se è tutto ok Cercheremo di approfondirlo Nei prossimi giorni Ma lo diciamo Per capire se qualcuno Ha avuto delle difficoltà Se qualcuno ha avuto Dei disagi A causa Dobbiamo soffermare Di questa situazione Qualche attività Non so E' la energia elettrica Energia elettrica Poi possiamo continuare La trasmissione Non è che ci staccano Perché devono fare Finché Finché la corrente c'è Noi la continuiamo Quando poi ce la staccheranno Volutamente o meno Non lo sappiamo Cercheremo poi eventualmente Di capirlo Ma comunque Dovremo interromperci Di possibili anemoteneture Le fatture Sono diventate Troppo alte Più che raddoppiate Non è possibile Andare avanti In questa maniera Specialmente Se c'è chi Pretende di avere Dei servizi gratuiti Dalle aziende E poi si lamenta E dice 10 minuti Si è stato 5 euro 10 euro Per forza Le spese sono eccessive E se magari Quello artigiano Ha dovuto percorrere 5-10 km Per spostarsi Anche nella sua città Per fare Quell'intervento Di 10 minuti Resta il fatto Che ha consumato La benzina E la benzina E' un costo E' aumentato Il prezzo Poi magari avrà Preso qualche buca Se è rotto Qualche ammortizzatore La sospensione Sa che cosa E' peggio Che andare di notte Quindi c'è La linea dura Di Draghi Francesco La pace O l'aria condizionata Però Attenzione Attenzione Non corriamo Che c'è tempo C'è tempo Il premier Avverte Tu hai ricevuto Avvertimento No non mi è arrivato E vabbè Lo facciamo noi pubblicamente Adesso leggiamo Quanto pubblica Quando ha scritto Il giornale Il premier Avverte Sul possibile embargo Parole difficilissime Un blocco commerciale Ma tu sei andato a scuola E quante persone E condividiamo Tu c'è il titolo No Non servono i titoli Non servono No di giornale C'è il titolo La pergamena Nel tuo ufficio C'è la pergamena No Ce l'ho conservata a casa Hai paura che ti fregano La pergamena No 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 E' per una questione Stanno colleghi onesti Con te scusi Sì assolutamente Assolutamente E perché non mettono la pergamena Tutti i titolati Tutti con la loro pergamena Metti a me la fotocopia A colori Te la facciamo noi La fotocopia a colori E' bello Raggiungi risultati Perché non devi avere la pergamena Sì 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 Ma quella c'è Ah c'è Allora il premier Albert sul possibile embargo Resta il fatto Che c'è chi Non ha potuto frequentare le scuole Perché era impegnato Magari E con la schiena Sempre inclinata A raccogliere I frutti della terra E non è andata a scuola Quindi io direi Che forse è meglio usare Anche termini Un po' più semplici Va bene Comunque Non come facciamo noi In dialetto Ma quasi Coperti fino a ottobre Coperti fino a ottobre A Salvini A Salvini Manda l'avvertimento A Gasalvini Sul Catasto Ha già perso due volte Tu ne sei qualcosa Di questo Di questa perdita Tariffe Allora andiamo Andiamo più nei dettagli Tariffe Sul prezzo del gas Ci sono punti di vista diversi Fra noi La Germania E l'Olanda Quindi l'Italia La Germania E l'Olanda In un'altra Ma non possiamo aspettare Ma è circa un mese Che ci raccontano Questo fatto Non possiamo più aspettare Che significa A un altro mese Certo Noi abbiamo Un'Europa Lentuccia Che Innanzitutto Non è una Perché ogni Stato Persegue Il proprio interesse E abbiamo Un'Europa Molto lenta Molto ingessata Molto attenta A Diciamo Argomenti Forse Poco importanti Poco prioritari Rispetto a quello Che è l'interesse Concreto Dei cittadini Perché se noi pensiamo Che ultimamente Recentemente Tra i provvedimenti Emanati Dall'Europa E che hanno fatto Maggiormente discutere Ci sono stati Quelli legati Alla Qualità Del cibo Che hanno visto Tanti cibi italiani Tante eccellenze italiane Classificati Come di categoria Inferiori Rispetto Magari a delle bevande Gassate Senza fare i nomi La Coca Cola A qualcuno Viene qualche dubbio No A qualcuno viene qualche dubbio No Ma poi sono migliorate le cose Sono migliorate Sono intervenute Su ciò di cui si occupa l'Europa Un tempo C'erano Delle Leadership Forti A livello Continentale Che facevano Da guida Per tutti Anche magari Leader che possono Piacere E non piacere Pensiamo alla Merkel A me personalmente Non piaceva Però La Merkel Però è in dubbio Il fatto che Era una personalità Forte Molto rispettata Anche dal punto di vista Estere Abbiamo fatto una brutta figura Attualmente Una guida Non c'è Filomena Ci scrive Cosa ci scrive Che brutta figura Stiamo facendo Con Filomena E chissà Tutti gli altri Dice Scusatemi Predicate bene Si dice Razzolate male Si dice E perché dice E vabbè E parla come Ti ha fatto la madre Switch off Ha ragione Filomena E ha ragione E però là Si vanno a coniare O meglio A mutuare I termini Che vengono dall'alto E noi come non possiamo Vengono dall'alto Dobbiamo piegarci Oltretutto Anche In fase di pandemia No? Abbiamo imparato Ad utilizzare Il Green Pass Che cosa? Non la certificazione E lascia passare E lascia passare Però noi Green Pass Se lo avessimo chiamato E vabbè Ma questo viene Un po' Dalla cultura Esterofila Che noi abbiamo Che cos'è Questi termini Questo amore Spassionato Questo amore Spassionato Per le parole straniere Che caratterizzano Italiani E un po' Il politicamente corretto Comunque Switch off Che ci impone Delle terminologie Allora il Green Pass Se noi lo chiamavessimo Chiamato Per quello che è Cioè Lascia passare Perdeva di valore Avrebbe No Magari Avrebbe Dessato Delle Delle riflessioni Differenti Delle riflessioni Magari Perché Lascia passare Quando si utilizzava Durante la guerra Quando uno doveva Varcare i confini Avrebbe riportato Avrebbe riportato Alla mente A dei periodi Non certo edificanti Invece Green Pass Con l'idea del green Il verde Tutto bello E questo è il calendario Comunque il termine Switch off Filomena Scusaci È quello che È scritto A norma Quindi I nostri parlamentari Che sono italiani Ma scrivono sempre più In inglese E quindi hanno scritto Switch off Il ministero Scrive switch off E noi dobbiamo riportare Switch off Ma è lo spegnimento Come ho detto prima Dei vecchi impianti E l'accensione È sempre importante Specificare Tradurre queste parole Esatto 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 E poi veniamo quindi A che cosa Al fatto che cambia Da 9 97 Diventerà 79 Vabbè È semplice Tutte le comande 7 e 9 È semplicissimo L'importante è esserci Poi stiamo sul 97 Sul 100 Sul 200 Sul 300 Sul 50 Non conta Non fa nulla Che cosa vi devo dire Che i numeri migliori Li hanno dati ai nazionali Che sono le lobby Quelli che hanno i soldi A noi ci hanno dato I numeri secondari Ma si capisce questo Non c'è bisogno Che ve lo dica io Si capisce che voi Insieme a noi Siete terroni Noi siamo Più che terrestri Siamo tutti sempre più terroni Terroni italiani Terroni cittadini Sono sempre più Terra a terra E quindi ci danno Il contentino E noi ce lo prendiamo Perché o questo Oppure Come si dice La finestra O ti accontenti C'è sempre il vecchio tram C'è sempre quel vecchio mezzo Di Di locomozione E quindi Espulsioni Veniamo alle espulsioni Claudio quanto Sei pronto Vuoi intervenire Puoi farlo Intanto io leggo Le espulsioni Claudio Se ne è andato proprio Si è autoespulso Se ne è andato proprio Eccolo No 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 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Le misure Allora Leggo delle espulsioni Così chiudiamo il capitolo Premier Le misure contro i diplomatici russi Sono state coordinate L'Europa agisce Molto unita Su tutti i fronti Ecco Ci sono sempre più termini Che ci fanno pensare Alla guerra Fronti Embargo Anche nel termine Calcistico Quello che aveva detto Claudio prima Con la corazzata Cioè ci sono termini Che usiamo sempre più Che fanno riferimento All'attività bellica Ecco E forse dovremmo Anche cambiare Questi Questi termini E poi Si parla La battaglia Sulla delega fiscale Il centro-destra Ritrova Unità No a stangate Su affitti E BTP Sì BTP Gelmini Sul PNRR Chi è va a Gelmini? Ministro Dell'attuale governo Sì No Questo con quale Non lo specifica Va bene Lo aggiungo io Gelmini Ministro Gelmini Caro Prezzi I contratti Saranno adeguati Ora Il titolo è importante Bisogna vedere Se l'adeguato Si riferisce a noi Che ne soffriremo O a chi disciplina I prezzi Non so se è chiaro Sono stato chiaro? Assolutamente Assolutamente Quindi qua ci vuole Una parentesi Scritto adeguato A chi? A noi A chi? A noi loro A noi loro Va bene Claudio? Mi senti? Forte e chiaro Allora Gelmini è il ministro Per gli affari regionali Giusto? Ok Per quanto riguarda L'incidente Mi serve ancora Un po' di tempo Vi posso dare Qualche informazione È avvenuto quindi Sulla strada Che collega Santero Ad accogliare le fonti A uno svincolo Per acqua viva E al momento Non è tra due auto Non si conoscono Molti dettagli E Sono intervenuti I carabinieri Il 118 E mi sa anche L'elisoccorso No scusami Claudio Non ho capito il punto Il tratto Allora È avvenuto In corrispondenza Dello svincolo Che conduce Ad acqua viva Delle fonti Sulla strada Provinciale Santeramo Gioia del colle Santeramo Gioia del colle Svincolo Per acqua viva Della C'è una Sì C'è una Corrispondenza A uno svincolo Che porta In direzione Acqua viva Due veicoli coinvolti Ho le foto Nel caso Tra poco Ve le giro Ma tu Una mezz'oretta Ce la fai Claudio Dipende Dipende Da Da Sant'Internet Da Sant'Inna Non ho chiesto No San Internet Ah Va bene Sto Provedendo Prego Prego Figuriamoci Allora Lo sai che facciamo Adesso Francesco Siccome Io mi sono stancato Penso che anche tu Ti sia stancato Stamattina stai alzato all'alba A che ora ti sei Ti sei elevato Stamattina alle 6 Ti sei sollevato Stamattina alle 6 Un quarto A che ora ti sei Elevato Stamattina alle 6 Un quarto Ho anticipato Forse dovevi prendere Non il tram Ma il treno No 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 Avevo vari impegni E quindi Quindi sei andato per Acqua viva In giro per Acqua viva A piedi No 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 Sono andato a Bari Ah Senti a proposito Ma quanti tilevi Si vede già Alle 6 un quarto Già si vede Alle 6 un quarto Inizia 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 ad albeggiare Non sono abituato A quegli orari Chiariamo Cioè Non è l'orario In cui solitamente Mi levo E quando ti levi Col piede destro O col piede sinistro Tocchilo poi Perché c'è chi dice Che a seconda del piede Che si mette per terra Cambia il senso Della giornata Io nel dubbio Tutte e due Li metto entrambi Insieme per terra Così faccio io Così stiamo tranquilli Così faccio io Perché una volta Che cosa mi è successo Mi ho messo il piede sinistro Mi giravo la testa Poi provate il destro La stessa cosa Ho detto Allora metto tutte e due E vado tranquilli Perché rischi Che non si sa mai Rischi poi di perdere Di sbilanciare Esatto Quindi amici Con tutti e due i piedi per terra Noi dobbiamo stare bene Con i piedi per terra Così nessuno ci porta Mano a mano Non ci può strattonare Se siamo solo con un piede Facilmente Ci possono trascinare Da una parte all'altra Quindi dicevo Siccome noi ci siamo Stancati un pochino Claudio è impegnato Lasciamo spazio Alla regia Alla redazione Perché loro ricevono Le segnalazioni La redazione riceve Le segnalazioni Abbiamo avuto segnalazioni? Ci mancherebbe Sempre Sono Sono Continue Al numero Whatsapp Oppure attraverso La posta elettronica Ma sempre di più Attraverso il 351 931 9265 Quindi attraverso I messaggi L'applicazione Whatsapp Ci sono immagini Per la maggior parte Dei casi E poi Viene aggiunto Il commento Quindi Vediamo un po' Cosa ci propone La redazione Quali immagini Eh E qui Che cosa dobbiamo dire? Una bella Iuola Qui dobbiamo chiamare Nicola Gravina Anche qui Dobbiamo chiamare Nicola Gravina Non so Quando lo chiameremo Perché deve fare Intervenire Deve fare intervenire Caterina Te la ricordi Caterina La capretta Con Nicola Gravina Andavamo Con la capretta Sì 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 Quando l'erba era alta Per la città di Acquaviva Anche l'azio industriale Questa è via la corte La portiamo con noi Questa è via la corte Un po' di cemento di qua Un po' di cemento di là Qualche Il basolato Un po' Mal ridotto Ma vede un abballamento In quel basolato? Lì è fatto perché Per l'acqua Per il Ci sono dei cigni Se non ricordo male In quell'area E qui si crea Una specie di Di laghetto Dove i cigni Possono andare lì E i bimbi Possono giocare con i cigni Infatti forse Proporranno di cambiare il nome Anziché via la corte Perché via la corte È un nome importante Sa di re Di sovrano Di la corte È un'immagine Qualcosì nobile Una strada nobile È così È la corte È evocativo È E quindi qua Invece L'immagine che poi avrebbero Le persone Che passano di là Non è Corrispondente al nome Al titolo dato Quindi in via Potrebbe diventare Via Del laghetto No? Una raccolta di firme Si può fare Anche se non servirà a nulla Perché vengono cestinate Tutte le raccolte di firme Non funziona A me Vuol che ho fatto io Come cosa Sono sempre inefficaci Sono tutte cestinate E anche le promesse fatte Sia dei due candidati sindaci E qui Ah ma qua ci troviamo In zona periferica Francesca È naturale che l'erba sia alta Asparagi Cicorielle In zona periferica È naturale che ci sia È giusto Certo Siamo in estrema periferia Estrema periferia Fossimo stati in centro Se ci fossimo trovati in piazza Vittorio Emanuele II Non avremmo trovato Tutta questa situazione Secondo me Quello invece È fatto Per chi si siede Alla panchina Quello è fatto Per Per una barriera Una barriera Sono un'ora E per il vento Che dà problemi alla schiena Siccome la maggior parte Le persone che stanno In piazza Vittorio Emanuele II Hanno una certa Quello è fatto Per chi a Pasquetta Non può andare a mercadante Andrà lì A raccogliere gli asparagi Andrà lì O farlo Tranquillamente Qualche nostro amico Tempo fa Ci ha mandato anche foto Di funghi Sempre lì Ma coltivati O spontanei No, no Spontanei È tutto da noi È tutto nature E abbiamo detto Parla come mangi È tutto naturale È tutto Tutto effervescente Tutto frizzante Tutto alto Tutto rigoglioso Si può dire rigoglioso Assolutamente È più rigogliosa di quella Però perché ce l'avete tolta Ci piaceva stare lì In mezzo al verde Noi siamo tipi ecologici Cambiamo zona Cambiamo zona Lì serve il Green Pass Per attraversare Oh, qua invece E dove ci troviamo qua? Hai visto dov'è? È certo Qua è dove si fa il mercato? Quella è piazza Madre Teresa di Calcutta Madre Teresa di Calcutta Vicino ai Carabinieri Abbiamo venerato la russa Abbiamo inaugurato E venerato la stele Si dice così? Sì Ho detto bene Per far gesto Per piacere La stele Come è quella di Rosetta Chi è Rosetta? La stele di Rosetta E dove sta sta stele? È conservata È ben conservata E va bene Ma oggi Dobbiamo dare le giuste informazioni Ai nostri spettatori Perché adesso ci chiamano Dove sta sta stele di Rosetta? È ben conservata Nei musei insomma Voglio dire Non certo nel museo di Acquaviva Va bene Il museo opportuno Che c'è da Rosetta O la stele di Rosetta Con l'acquaviva Nulla È giusto? No Non c'entra perché Quella fu scoperta In Egitto E che c'entra? E consentì di Decifrare i geroglifici Tu sei stato in Egitto Allora? No E come hai fatto a sapere tutte queste cose? Mi è capitato di sfogliare accidentalmente qualche pagina di libri qua e là Tu sei un tipo culturale Quindi sei andato al teatro No E perché no? Se sei un tipo culturale dovrebbero averti invitato Sapendo che sei un uomo Non Un soggetto Un ragazzo di cultura No, no, no Non sei stato baciato Comunque Che è successo? Ho controllato No, a parte che mi hanno scritto sulla stele di Rosetta Però sono andato a controllare perché non ricordavo francamente il museo in cui è conservata Ed è il British Museum di Londra Sono andato a controllare Non la si paga per entrare Eh certo In sterline Dobbiamo quindi far prestare le sterline dall'Enel Il British dovrebbe essere con il terreno? L'hai visto? Come il British è gratuito Francesco, il British è gratuito E noi paghiamo per i nostri musei Evidentemente non Paghiamo per il teatro Paghiamo per i musei Qua si paga sempre Francesco Andiamo invece a Londra Nel British Museum Com'è che l'hai chiamato tu? Il British Museum di Londra Di London E se lo dici in inglese diciamo Eh beh certo E quindi Ma è fortunato tu che ci sia andato A gratis pura perché non hai pagato No 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 io non ci sono andato Non ci sono andato a Londra Non sono mai andato a Londra Mi manca tra le tappe Mi dicono che è splendida Più di acqua viva? Ma certamente Come? E come è possibile? È possibile perché lì c'è la torre Anche noi Tower Bridge Anche da noi c'è la torre Io quando ho studiato Nell'ora preistorica La prima cosa che mi hanno insegnato In London Tower Bridge Esiste ancora? Ho sbagliato città? No 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 E a Londra Sì 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 assolutamente Ma anche ad acqua viva c'è la torre Se poi la vogliamo chiamare Non è la torre In un nome inglese La chiamiamo No Tu ti confondi Clock Tower Francesco Quella non è la torre Quella è la peretta Tu confondi Ma la tower bridge Con la peretta Allora la peretta occulta la torre La presenza della peretta La peretta Che poi cosa rappresenta quella peretta? È un simbolo a stare sempre meglio A non avere problemi di ostruzione Se tu sei ostruo Se noi siamo ostruiti mentalmente Si può dire ostruiti mentalmente? Dobbiamo essere un termine No 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 Sì sì è chiaro Se noi fossimo ostruiti E ci sentiremmo male Anche perché Come che si dice? Corpo? Di 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 Corpo Mente com'è? Tu me lo devi dire Tu hai studiato Francesco Mense sana In corpore sano E quindi La peretta è indispensabile Per avere una mente sana E certamente E più perette ci facciamo noi cittadini Andando lì Guardandola E più ci sentiamo Ah Above and shoot Si può dire above and shoot in dialetto? Ci sentiamo Si può dire Si può dire E se non si può dire Lo diciamo lo stesso Eh Quindi Caro Francesco Lì la stele di Rosetta È gratis Ma entrano E gratuitamente La vedono Qualcuno invece Da noi invece No la maggior parte dei casi Si paga e fa la fila Per poter entrare Tranne quando c'è Quando c'è qualche giornata Dedicata all'ingresso gratuito Però dicevi No dicevo che Relativamente a quell'opera Che possiamo ammirare In piazza dei martiri Che è 1799 È importante la data Perché Assolutamente Alla Alla popolazione In chiave fiscale 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 Perché la supposta Eh non lo so Io non ho capito Diciamo Questa Questa Isegesi Interpretativa No Ragazzi Siamo Dobbiamo essere Così hanno detto Gli esperti d'arte I critici d'arte Io so solamente Che quando Andavo lì Guardavo la bellezza Della piazza La torre Dell'orologio Guardavo tutta la piazza Anche quando facevo Qualche foto E ho delle foto Quando c'era ancora La processione Dalla nostra Santa protettrice E vedevi Era veramente Una bella scenografia Un belù Profumavano le immagini Ora le immagini Non profumano più Perché mi ritrovo La peretta Dovunque vada a fare Poco la telecamera Se vado a fare Un'immagine Lì mi ritrovo Nell'immagine La peretta È stata una scelta Ma la soprintendenza Io non condivido Non so se a te piaccia Poi Non rientra Nei miei gradimenti Però Io mi domando Ma la soprintendenza Che Ai bar Alle attività commerciali Che fanno somministrazione Di alimenti Dice Dice È questo È la sedia La devi mettere così È il tavolo così È l'ombrellone così È questo non lo puoi mettere I fiori no È quello sì È quello colì È il vaso di questo colore È quello Eh ma Questo oggetto Questo oggetto Questo oggetto Di forma evocativa È stato autorizzato Dalla stessa soprintendenza Che dice Agli amici ristoratori Cosa possono E cosa non possono fare Io non so Cosa succede Con i ristoratori Ma sicuramente Trattandosi di un'opera Lì Installata Ubicata E A cui Non si può sfuggire Nessuno può sfuggire Che c'è Quell'opera Che io ho chiamato Perché non ricordo il nome Mi dispiacerà Io non voglio Ecco Toccare La Suscettibilità di nessuno Io la chiamo Da sempre la peretta Perché non mi ricordo il nome Che le è stato dato Ecco E poi Per me Io ogni volta che la guardo O chiudo gli occhi O apro gli occhi Immagino una peretta Posso dirlo Si può dire Ma certo Ognuno Sono libero Nel 2022 Di immaginare Le perette Di dire cosa Cosa vedo io La peretta Comunque Andiamo avanti Non so che Perché stiamo parlando La peretta Che c'è No Andiamo avanti Stavamo parlando Del verde Ah è Ora sì Quindi prima Era piazza Madreese di Calcutta Dove si svolge Il mercato settimanale Sì Questo invece E un'altra piazza Questa è un'altra piazza Questa dovrebbe essere Una piazza Dove tutti Sempre in prossimità Di piazza Piazza La Libertà E questo Che cos'è Ehm Si sente libero Qua Si Si sente libero Di correre Di fare Piazza La Libertà Compatibilmente Compatibilmente con Con la vegetazione Ergogliosa Questa è una piazza Dove Chiedo scusa Vabbè ma Ma secondo me Non è l'erba alta C'è il trucco Cinematografico Qui c'è il trucco Cinematografico Che è stata fatta E la foto È stata realizzata Sdraiati per terra Affinché l'erba Apparisse più alta E slanciata Anche se poi Le targhe delle macchine Non si vedono Rispetto agli alberi Comunque Qua panchina Non c'è il trucco Qua è proprio erba 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 bella alta Ma non è che Ma non è che Si sta coltivando grano Forse Come nella crisi del grano Quando Ai tempi del fascismo A livello Propagandistico Forse Nelle piazze C'è quella foto Famosissima A piazza Duomo A Milano Di Mussolini Che miete A torso nudo Probabilmente Vedremo qualche Politico locale Miete Non lo so Se Mussolini Come fosse vestito Io so che lì Possiamo Ritornare sulla foto Cortesemente Se l'erba Continua a crescere Coprirà del tutto Quella specie Di pavimentazione Quindi se Normalmente Uno riesce a vedere Che tutto Come si dice Ondulata Si E' proprio Ma un messo Da rifare Con la pavimentazione Potrebbero inciampare Cadere Vedi i mattoni Singoli mattoni Come sono messi male Francesco La foto E' stata fatta Forse per l'erba Ma mette in risalto Anche i mattoni Guarda Forse le radici Degli alberi Hanno sollevato Vabbè vuol dire Che hanno scelto Delle piante sbagliate Cioè Non è che li abbiamo Tu hai scelto le piante Là Hanno pagato qualcuno Che ha fatto il progetto Che ha scelto le piante Da 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 piantumare Lì E vuol dire Che quelle piante Lì non potevano andare Ma in Italia Così è Come il melone a prova Proviamo E poi vediamo Così Piazza Vittorio Emanuele Proviamo E quali sono i risultati Vabbè Lasciamo stare Andiamo avanti Allora Mi segnalano Alcuni amici Telespettatori Che ci seguono da casa Che sembrerebbe Che manchino Gli operai Per andare A tagliare l'erba E vabbè Loro E quindi sono Sotto organico Poi loro Non possono dare Una mano Chi sono questi amici Sono agricoltori Vogliono dare una mano No non sono agricoltori Vogliono fare gratuitamente Rifletteva Rifletteva Il cittadino Che mi scriveva Visto che C'è tanta gente Che percepisce Un reddito Di cittadinanza Se qualcuno Volesse Dare una mano Potrebbe Sarebbe ben gradito Però loro Non sono disponibili Questi amici E no Evidentemente no Non sono disponibili Hanno già altre attività Probabilmente Si sono impegnati In altre attività Lavorativa Andiamo avanti Con queste segnalazioni E a breve Ci colleghiamo Con Claudio E guarderemo Le foto E ci dirà Dell'incidente Che a quanto pare Si tratta Un incidente grave Perché se è intervenuto L'elisoccorso E quando interviene L'elisoccorso Vuol dire che L'incidente è gravissimo Grave Gravissimo Certo Quindi speriamo bene Insomma Per le sorti Di chi è stato coinvolto E qua Che succede Che succede Vabbè Un mezzo Che percorre Una strada Senso vietà Ah ho capito Hanno fatto Un book Un album Di alcune Di alcune stranezze Cittadine Degli ultimi Degli ultime settimane Gli hanno messi insieme Per dire Com'era Com'è E sicuramente sarà Non so se è chiaro Francesco E questo appartiene Al com'era Al com'è O al com'è Sarà Com'era Com'era Quindi Betoniera Senso vietato di marcia Che va A fare i fatti suoi Certamente I fatti miei O i tuoi E quindi Dovendo fare i fatti suoi Si può permettere Di fare quello che vuole Quindi è una betoniera Non è un camion È una betoniera Sì perché vedi So dietro Si vede il braccetto Ah ecco Sì 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 E l'attenzione ai dettagli E certamente Io sono esperto Di questi dettagli Perché avevo chiesto Alla commissione Non quella degli spettacoli Del comune di Acquaglio La commissione C'è una commissione Che Si occupa anche Di regolamenti Generali Varie Anche il settore edilizio Ma è sopravvissuta Al covid O era pre-covid Non lo so Questa commissione Non risponde Non fa sapere nulla E forse C'è il covid C'è stato il covid Sono impegnati in cose loro Che forse non sono cose nostre Non lo so Non le cose mie Certo no Perché se io gli faccio Una proposta E non rispondono Non sono impegnati In una cosa mia Ovviamente Che poi la cosa mia Rappresenti Cento, mille, tre mila persone A loro non gli interessa nulla È relativo È relativo Sì Andiamo avanti Che cos'è qua? Ah Qua è un pascarrabili occupato Perché c'è lo scivolo lì Pascarrabili occupato Va bene Ogni tanto si può permettere Si può essere Andiamo avanti Andiamo veloci Va bene E qua Francesco Tu quando Attraverso una strada Devi saltare Sulle cappotte Sul tetto Delle auto È meglio Quest'ultima autovettura Che ha la possibilità Come lì sci No? Ha la possibilità Di mettere le mani Sopra quelle Quelle aste lì Per tirarsi su Per tirarti su E poi è semplice Poi scendere All'altra parte Quindi è bene Che parcheggino Sulle strisce pedonali Mezzi del genere Così La vecchietta di 90 anni Che deve attraversare Ha la possibilità Di arrampicarsi Sul mezzo Oppure Attraversa Al di fuori Delle strisce E potrebbe avere problemi È giusto Francesco Perché Se poi i mezzi Vengono rimossi Come succede La maggior parte dei casi Perché c'è l'incidente Ad acqua viva Vengono Ah Rimuovono poi i mezzi Pensavo alla rimozione La vecchietta Che malcapitato Non può dimostrare Che attraversata A due metro O un metro Dalla strisce pedonale Perché erano occupate E si ritrova pure L'automobilista Che dice Ma la colpa è tua È attraversata Fuori dalle strisce O sei sbucata Dietro all'auto O no Francesco No È fantastico Che Le strisce Praticamente Sono completamente Sia da una parte Che dall'altra Occultate Dai mezzi parcheggiati Andiamo avanti Vabbè Qua Un'auto Pascarrabile Occupato Un furgone Questo è un mezzo Che fa le consegne Quello deve fare le consegne Questo deve scaricare il materiale Ognuno Questo Questa è la grande Questo è la grande Su strisce pedonale Pascarrabile Vedi Si vedono le strisce lì E quindi Questo di nuovo Pascarrabile E vai Continuiamo Continuiamo Quindi Questa poi È la cosa migliore Dice io Voglio fare doppio Doppia violazione Tripla violazione Questa è una tripla violazione Strisce pedonali Post Nel mio di dietro No Un attimo Fatemi finire il commento Strisce pedonale Nel mio di dietro Passaggio pedonale Nel mio di dietro Occupato Posizionamento in curva Perfetto Il centro dell'alto vetturio Il baricentro dell'alto vetturio Sono parcheggiato Sul uno spigolo Della curva E la parte anteriore Sull'altro passaggio pedonale Qui in tripla violazione E o lascio Raddoppia Fatto tris Bravissimo O bravissima Chiunque sia Perché non sappiamo Se uomo o donna Magari era in movimento Stava svoltando Non penso Che abbia parcheggiato così Ma sì Perché si doveva Andarmi a comprare Un chilo di carne O devo andare a fare altro Bisogno Sei urgente alla cosa Capito Non è che sto andando In farmacia Perché mi serve un farmaco Salva vita E allora Si può capire Che si può comprendere Devo andare a comprare Un chilo di carne magari Devo andare al supermercato Devo andare a prendere Il latticino Non so che cosa Al bar E allora Viste che devo andare al bar A prendere il caffè Perché mi sento un po' addormentato Ed è vero Fa bene a questa persona Andarsi a prendere il caffè Perché è un po' addormentata O addormentato Perché parcheggia Su prima striscia Seconda striscia In curva Questo è da premiare Questo dovrebbe andare A striscia La notizia Io consiglio Sono queste E queste sono Il teatro comunale Ma queste sono risalenti Perché adesso c'è Lo scivolo Probabilmente Oppure non è inquadrato Anche qui Le strisci pedonali In curva Vabbè So cosa che succede Qui altre strisci pedonali E scivolo avanti C'è il Paschalabio E via Andiamo avanti Andiamo avanti E qua Che succede Scivolo E strisce pedonale Andiamo avanti Qua mi sembra Piazza Kennedy Non voglio Ma mi sembrava Piazza Kennedy Dalle finestre Mi ricordo Quando quegli ambienti Lì Quei locali Venivano Riempiti d'acqua Insomma Posso fare una domanda Ah questo E poi davanti al teatro Quindi Attività culturale A destra Ecco la pedale Si si vede la pedale Si vede E sulla sinistra Le strisci pedonali Posso fare una domanda Tre auto su strisci pedonali Andiamo avanti Posso fare una domanda A chi ha mandato le foto No in generale La chiedo ai telespettatori La chiedo a chi è presente Ma quante strisce pedonali Stanno qui Qui A contarle Una Qui ci sono le strisce Quattro Cinque No 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 Non quante strisce Quanti attraversamenti Meglio Quanti attraversamenti E certo Perché qua c'è quello Ma quello è giallo Quello di dietro è giallo Qui c'è quello in pietra Quello subito dopo No è bianco È bianco Quello non è giallo Subito dopo le strisce E non so se Ed ecco qua Dove lo vediamo E qua ce n'è un terzo Evidentemente Dove appoggia Allo pneumatico Del Del Peugeot Evidentemente E in maniera Molto intelligente E' stato risolto Il problema Perché dicono Se io solo Un passaggio pedonale Ed è sempre occupato Mi stango ad andare A fare le contravenzioni Non ho il personale Per fare le contravenzioni Aumento i passaggi pedonali Così Il pedone Deve essere così sfortunato A trovare tutte e tre Occupati Non so se è chiaro E certo In modo tale Che C'è una maggiore probabilità Su tre Ma non hanno fatto i conti Senza l'oste Perché noi abbiamo Automobilisti E da quei delle fonti Che fanno il tris Quindi servono Quattro Attraversamenti pedonali Per avere Qualche chance Perché come abbiamo Visto prima C'era il tris Guarda la violazione Poi ci si dice Che qualcuno Parcheggia un mezzo lungo E occupi tre passaggi pedonali Ma non ci sono altre Trasgressioni A quanto pare Quindi per oggi Abbiamo terminato Le segnalazioni Possiamo dare la linea a Claudio In chiusura Perché ci deve Informare Su questo incidente Automobilistico Di stamane Avete anche le foto Da poter mostrare? Sì 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 Allora Vi do Vi do le informazioni Che non sono Non sono positive Ha perso la vita Un cittadino straniero Residente a Santeramo Che era a bordo Di una Peugeot La moglie E' rimasta ferita Gravemente E' trasportata In codice rosso Al pronto soccorso Mentre nell'altra auto Una Fiat Punto Viaggiava Una giovane coppia Anche loro Non sono in buone condizioni Queste sono Questo è l'aggiornamento Queste sono le immagini Vediamo che sono intervenuti I carabinieri I vigili del fuoco Per le lamiere Per rimuovere Per recuperare Ma guarda un po' Non si sa il motivo Stanno indagando Si conosco Si Non si conoscono I dettagli La dinamica Dell'incidente Intervenuti I mezzi Pronto soccorso Altre 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 Organizzazioni private Se non ho visto male Con le ambulanze E tu hai detto L'elisoccorso Pure Si Mi è stato riferito Che è intervenuto L'elisoccorso Vogliamo ricordare Il tratto di strada Dove è avvenuto Questo incidente Stamattina Quando parliamo Di che ora parliamo Intorno alle 11 e mezza Più o meno 11 e 30 Si Intorno alle 11 e mezza Di questa mattina Si E In pratica Sulla provinciale Che collega Santero A Gioia del Colle In corrispondenza Di uno svincolo Che porta ad Acquaviva Delle Fonte Però a me Non per Per infierire Con le immagini Vorrei guardare Lo stato Della strada Mi piacerebbe Guardare la strada La strada Vorrei guardare Perché ecco Si Bisogna andare piano Tutto quello che vogliamo Ma vogliamo Fare in modo Che le strade Siano normali Ecco Non Superstrade Ma normali Ecco E quindi qua Mi sembra Che la strada Non è che sia La miglior strada Guarda guarda un po' L'armando stradale Tutto lesionato La segnaletica Che si vede Non si vede Vabbè Ci sarà poi il magistrato Che deciderà Se la strada In ottime condizioni In buone condizioni O meno Farà le sue indagini Per determinare La causa Dell'incidente Resta il fatto Che Purtroppo Spesso è anche La disattenzione A procurare Questi incidenti L'uso Lo smartphone Ti arriva la telefonata E ti distrai un attimo Anche magari fumare Cade la C La sigaretta Non so Qualsiasi cosa sia Ecco La distrazione Bastano pochissimi secondi Per ritrovarsi Fuori strada Certo Sì Delle immagini terribili Che vorremmo Non vedere più E purtroppo Noi siamo costretti A documentarle E' certo che il ruolo Dei cronisti In particolare Da Manera E di queste Di questi incidenti stradali Ecco non vorrei essere Nei panni Dei nostri colleghi Come di coloro I quali stanno documentando Quanto avviene Durante il conflitto In Ucraina Ecco Stanno facendo Fanno un lavoro Un lavoro Ottimo E dallo stesso tempo Che Certo Diventa un peso Dal punto di vista umano Poi Andare a letto Stare Non so In un attimo Di tranquillità Rivedere queste immagini Davanti agli occhi Insomma E' un peso E' un peso notevole Francesco Assolutamente Che noi Non possiamo immaginare Almeno per quel che mi riguarda Perché una cosa E' raccontarlo E altro E' vivere Qualsiasi esperienza O buona O cattiva Raccontarla Ha degli aspetti Ma viverla E' tutta altra cosa Tutta altra storia Claudio Vuoi aggiungere Altre notizie Prima di concludere Il programma No Per fortuna E' niente Sì C'è un altro incidente stradale Di questa mattina Nelle prime ore Di questa mattina Non si conoscono Tutti i dettagli L'unica cosa che posso dire Sulla San Nicandro Direzione Bari In pratica E' il C'è stata Una bella fila Di macchine Che ha dovuto Avere il problema Di Di poter Rientrare A casa O al lavoro Insomma Ci sono stati Mi dicono Almeno 40-45 minuti Di Di fila Per poter Per percorrere Un breve tratto Di strada Tra la San Nicandro Bari Sì sì La strada All'area Verso Bitetto Sì Svincolo per Bitetto Forse un tamponamento Sì Probabilmente Sarà stato un tamponamento E niente Mi hanno riferito Di lunghe code Un notevole disagio Per gli automobilisti Mentre per quanto riguarda L'incidente Che abbiamo mostrato Le foto Anche lì Il tratto E' stato interrotto In attesa Di ripristinare Il tutto Quindi anche lì Ci sono dei problemi Di viabilità Di traffico Dobbiamo aggiungere Che purtroppo L'umidità E la pioggerellina Di questa mattina Di queste ultime ore Non rende La strada Percorribile In sicurezza Certo Diventa molto scivolosa E Sdrucciolevole In alcuni casi Quindi bisogna raddoppiare L'attenzione Ecco Speriamo adesso Che non avrei sbagliato Sennò Filomena Mi riprenderà Sul social Grazie Filomena E sempre più commenti Sempre più segnalazioni Grazie A voi tutti Di aver mandato Le immagini E Ci hanno mandato Anche delle immagini Di panzerotti Che non posso far vedere Adesso Perché siamo Ed è meglio Non so Ed è meglio Perché già Io solo a sentire La parola panzerotti No Perché io ho bisogno Claudio Di leggere il commento Ho visto solo l'immagine Vorrei capire È un mandare I panzerotti Giusto come immagine O dire Ti invitiamo A degustare con noi I panzerotti I panzerotti Buon pranzo a voi tutti Buon pranzo Claudio Che c'è oggi a pranzo A casa Claudio Come gli altri giorni Prosegue la dieta forzata Ma Io non ci credo Si interrompe il sabato Lo sabato e domenica Ma tu ci credi? No io non ci credo Non ci credo È vero Nemmeno io Non ci credo Dobbiamo andarlo a trovare Mi faremo una sorpresa La diretta Andremo lì La facciamo da casa di Claudio Andremo lì Perché io sono sicuro Che invece C'ha pure il secondo E si mangia pure la pizzetta E tu lo conosci meglio Da questo punto di vista Quindi Si si perché Conosci le abitudini Finché c'era lui La mia pizza era Non lo so Piccolina Ho iniziato a gustare la pizza Di quando lui si è sposato Quando è andato via È andato via E rimasto la pizza Per me è diventata più grande Giustamente Il formato del tegame È sempre quello Lui è un'ottima forchetta Mi piacciono le pizze I panzerotti Mi piacciono Quindi se lo devi invitare A pranzo o a cena Pizza e panzerotti Prendo nota E niente vino Non beve vino No 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 Non beve vino Acqua minerale Va bene Naturale o effervescente Va bene anche il vino Però sulla pizza Ci sta bene la birra Ecco La birra Anche se dicono gli esperti Che invece la birra Sulla pizza non va bene Blocca la digestione Sì Eppure è una tradizione Accompagnare la pizza Abbinare pizza e birra È una tradizione Però c'è chi dice Che invece Non aiuta la digestione La birra sulla pizza Comunque io la birra Non la bevo Voi perché mi volete Far bere la birra Io bevo solo l'acqua Ecco A me piace la pizza Speriamo che stasera Mai amare Mi faccio una bella pizza Grande Grande così Perché dai telespettatori Non è più come 1980 82 83 84 Prima chiamavano E ti portano Dici possiamo venirti A trovare in trasmission Vieni vieni E ti portano A mangiare Le cartellate Sembra un appello Quasi fatto Alla prossima Pasqua Io non voglio L'agnello Perché Noi lo vogliamo L'agnello Però Un simbolo Mangiare insieme Una colomba Si può Si può Si può Certo che Ma non ce la portano Non ce la meritiamo Dobbiamo chiamare Nicola Gravino Ricordiamoci Chiamare Nicola Gravino Che lui Con le colombe C'ha a che fare Comunque a questo punto Ope con la capretta Caterina Anche con le colombe A questo punto Io direi Di verificare domani Se l'appello Che hai appena rivolto Per la pizza Di stasera Sarà accolto Meno Sì Così domani Parliamo Sia dall'appello mio A mamma mia Che del bericchino tuo Eh certo Così abbiamo Ho il contraltare Adesso Così Sono meno scoperto A Claudio Che cosa vogliamo chiedere Non lo so Che cosa possiamo chiedere domani A Claudio Ma Claudio Si nasconde dietro la telecamera E non viene qui Dobbiamo misurare Il cinto Così Quando poi facciamo Quando poi facciamo Qualche domanda Scomoda Sul Io so che mangi Sul seguito di questa dieta Io so Dice che il collegamento Non funziona più E non ci dà risposta Io so che invece Mangi i dolcetti Oggi farò un approfondimento E domani documenterò Ciò che mangio Di dolcetto Claudio Lui ci dice Che non mangia niente Da lui Nessuno ci ha chiamato oggi Non manda solo messaggi Oggi solo messaggi Perché non ci chiamano Non ci vedono Ma secondo te Ci vedono o non ci vedono No Di vedere ci vedono Perché mandano i messaggi E perché non chiamano Eh non lo so Ma gli abbiamo detto Che è gratis la chiamata Ancora pensi di pagare È sfuggito E dobbiamo specificare Che se voi ci chiamate È gratis Non dovete pagare nulla Non vi preoccupate Buon pranzo a voi tutti Grazie di averci Un panzerotto è arrivato Ah un appuntamento Allora intanto Prima di chiudere Do un rapidissimo aggiornamento Sul sondaggio Poi domani Diamo un esito completo Certo La domanda dobbiamo ricordare Il sondaggio era Tra pace E aria condizionata Se i nostri telespettatori Preferiscono la pace Preferiscono la ria condizionata Naturalmente Dobbiamo dare il risultato Insomma Se vince la pace Lo sappiamo questo E allora lo diamo domani Domani Perché attualmente No no Lo diamo domani 57% a 43% E non diciamo Se siete una parte da lì No Lo lasciamo Perché siamo sicuri Che vincerà la pace Noi siamo per la pace Tranquilli Anche se Vogliamoci bene Anche se qualcuno diceva Giustamente Rifletteva sulla pochezza Di queste parole In che senso? Il quesito? È posto male? È posto male Meno male che abbiamo Il governo dei migliori Perché non l'hai scritto Perché se poco Non l'hai scritto Eh no Ma io ho citato Ah quello nazionale Vabbè domani Predisponi un quesito Ma sia Non fosse stato Il governo dei migliori Perché chissà Che quesito Avrebbero tirato fuori Io invece penso Chissà cosa sarebbe successo Se anziché Draghi Che qualche numero Lo conosce Ci posso qualche altro Premier lì Ma Non lo so Almeno lui È un cuoco Che sa cucinare Che capisce Degli ingredienti Se ci fosse stato Qualche altro Ma Che minestra Ci avrebbe preparato Un saluto a voi tutti Grazie di essere stati con noi E vi ricordo Che dall'11 aprile Ci potrete seguire Sul 79 La mattina L'11 aprile Voi vi alzate E si vede Telemai Sul 97 Se vi alzate L'esimo quarto Voi andate avanti La breoscia Tornate a casa Nella fascia 10 10 e mezzo 9 e mezzo Non so A sorpresa forse È come l'uomo di Pasqua Si spegne il 97 Noi Non ci saremo più E si dovrebbe Accendere Il 79 Si dovrebbe Perché è una questione Che riguarda il futuro E noi possiamo parlare Del presente E del passato Il futuro Non è Nelle nostre mani Noi lo sappiamo Noi cristiani Lo sappiamo Che noi Il futuro Non lo possiamo determinare C'è chi Purtroppo Li troviamo spesso In politica Pensano invece Come se il futuro Fosse nelle loro mani È questo Non va per niente bene E i disastri Che combinano Certi politici Che la pensano in questa maniera Li vediamo sotto i nostri occhi Tutti i giorni Un saluto a voi tutti Grazie Francesco E grazie Claudio Ciao a tutti E speriamo domani Di avere notizie positive E non negative Come diceva Ce l'auguriamo Mogolle Cantava Lucio Battisti Lo scopriremo solo vivendo Grazie a tutti E a domani E sintonizzandovi E sintonizzandovi Su Telemic Altrimenti Non saprete Che cosa succede E vi dirò domani Perché Francesco Ha fatto Il birichino Sì Francesco Il primo aprile Ha fatto il birichino Non è vero No come Non puoi rispondere No no Non puoi rispondere Se non è in presenza Il tuo avvocato Non puoi rispondere Se non è in presenza Il tuo avvocato A domani Non puoi rispondere